Massimo, 58, di Milano, provincia di Milano. Allora, le mie difficoltà sono dovute a masticazione, perita dei denti, poi ho avuto anche la malattia della parodontite. Come sono venuto a conoscenza del dottor Palmos riguardo? Guardando Facebook, canali social. Mi sono documentato, ho visto i vari filmati, praticamente mi ha convinto. Vabbè, poi parliamo, sono arrivato in aeroporto, ho trovato Adriano, l'autista, che mi ha preso e mi ha portato per mano fino. Subito il giorno dopo sono arrivato in clinica e ho trovato la mia tutor, Alessandrina. È stata magnifica perché comunque mi ha spiegato un po' il tutto e mi ha seguito in ogni fase, per cui per qualsiasi problema sapevo che c'era lei, sempre e in ogni caso. E poi c'è una organizzazione che è eccezionale, c'è un team che è coeso, comunque ognuno sa fare, cioè ognuno ha il proprio ruolo. E devo dire che mi sono trovato veramente bene. Allora, la mia vita è cambiata, è cambiata meglio ovviamente. Chiaramente io sono andato a rivedere delle foto prima di venire qui. E rivedendo tutte le mie foto non c'è una foto dove sorrido, dove rido, dove mi davano sempre del musone, ma questo era dovuto a un mio problema. Perché comunque non ridere è brutto, perché comunque non ti puoi relazionare con le persone. È stata una grossa difficoltà per me. Da quando ho fatto l'intervento rido sempre come un pagliaccio. Per cui io sono felice, sono veramente felice e lo consiglio veramente a tutti. Venite qui perché veramente il dottor Palma vi regala un sorriso.